Sanità territoriale della Val Pescara, lavoro in corso, è il titolo di uno convegno itinerante che dal presidio ASL di San Valentino si sposterà a martedì prossimo fino all'ospedale di Popoli. Fin qui nulla di strano se non fosse per il fatto che all'evento sono stati invitati quattro candidati alle eminenti elezioni regionali, tutti di centrodestra, tra questi anche il candidato presidente Marsiglio e l'assessore uscente della sanità Nicoletta Verì. In barba la legge 28 del 2000 che all'articolo 9 impedisce di strumentalizzare istituzioni pubbliche per appuntamenti di comunicazione politica. Sulla vicenda è intervenuto stamani in conferenza stampa il senatore Luciano D'Alfonso che ha già segnalato la cosa alle autorità competenti e si dice pronto a presenziare a suo modo all'evento. Che cosa cambia tra il 5 di marzo e l'11 di marzo? Ci sono 144 ore di differenza. Aspettassero. Ma perché dico aspettassero? La legge vieta quel tipo di comunicazione politica o diretta o mediata a favore di candidati, di figure istituzionali ieri, di parte oggi, perché sono figure candidate e non è giusto che arrivino a strapazzare non solo telefonicamente i direttori delle ASL affinché facciano quest'ultimo sforzo per aiutarli in campagna elettorale. Non è giusto. Guardate, poi il 5 di marzo, quando è stato pensato questo appuntamento nel presidio di San Valentino, per il calendario cristiano ricorre anche la dedica per un grande santo, Sant'Adriano, che ha il carisma della difesa dei perseguitati e anche degli schiavi, io non vorrei che avessero in mente di organizzare una specie di passività nei rapporti dei direttori generali che devono eseguire ordini fuori dalle loro competenze. Perché dico questo? Se rileggo quello che hanno fatto con il professor Di Salvatore, quando ne hanno finanziato un corso di laurea e pretendevano o il silenzio o il collaborazionismo politico e culturale. Se ripenso addirittura che hanno ostacolato una ASL a costituirsi parte civile in un processo penale. Questa è un'operazione che serve in qualche modo a sovvertire la verità storica ed oggettiva dei fatti e francamente la senta la vergogna e quindi applaudo l'iniziativa dell'onorevole D'Alfonso che è entrato a gamba tesa su queste iniziative e che sta mettendo in campo tutto quello che hanno le sue possibilità a fare per evitare che si consumi, perché siamo a pochi giorni dal voto e bisogna garantire serenamente sulla base di una rendicontenzione oggettiva dei fatti l'espressione libera del voto da parte dei cittadini.